l'incidente a Campobello di Mazzara si scontrano tre auto muore una donna di 89 anni oggi a Mazzara consiglio comunale sopra il luogo del sindaco quince al depuratore comunale di Mazzara i bersaglieri hanno celebrato 183 anni. Ben ritrovati con l'informazione di Teleotto ultimo appuntamento settimanale con il Tg8 informazione apriamo subito con una triste notizia di cronaca un gravissimo incidente accaduto intorno al 19.45 di ieri sulla strada provinciale 51 Campobello di Mazzara a tre fontane. Nell'incidente sono rimaste coinvolte tre autovetture una BMW condotta da un 39enne di Campobello di Mazzara, una Fiat Multipla condotta da un 60enne di Morreale e una Fiat Idea condotta da un 72enne di Campobello di Mazzara. A bordo della BMW e della Fiat Multipla vi era anche un passeggero ed è stato proprio il passeggero della Fiat Multipla una 90enne di Campobello di Mazzara ad avere la peggio a causa dell'incidente perdendo la vita. Il posto sono stati trasportati all'ospedale per le cure del caso mentre il conducente della BMW non si è fatto trovare sul luogo del sinistro. Ovviamente al vaglio delle forze di polizia è intervenuta la dinamica del sinistro. L'incidente è avvenuto nel tratto più ampio della strada provinciale 51 in corrispondenza di un terreno privato adibita a maneggio. Il conducente della BMW, forse a causa dell'eccessiva velocità, ha perso il controllo dell'auto dopo una curva e ha invaso la corsia opposta di marcia andandosi a scontrare frontalmente contro la Fiat Multipla che veniva in senso contrario e successivamente con la Fiat Idea che si trovava proprio dietro la Multipla. Ancora una volta la strada provinciale 51 è teatro di gravi incidenti ed aumenta il numero di vittime su una strada che diventa pericolosa a causa della forte velocità di chi la percorre. E si riunisce oggi a Mazzara del Vallo il Consiglio Comunale. Il presidente Vito Gancitano, sentita la conferenza dei capigruppo, come già abbiamo detto nelle scorse edizioni, ha convocato per oggi alle 17 una seduta. L'ordine del giorno prevede la discussione di dieci punti, tra i quali spiccano le elezioni della commissione elettorale comunale, la costituzione delle cinque commissioni consiglieri permanenti, la costituzione della commissione per le garanzie statutari e la nomina della commissione per l'aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari. E rimaniamo a Mazzara, ieri sopra il luogo del sindaco Quinci e gli impianti di depurazione. Ho constatato la piena funzionalità del depuratore centralizzato di Contrada Bocca Arena ed ho impartito apposite direttive perché si solleciti il commissario straordinario per la depurazione, nominato dalla presidenza dei ministri, ad ultimare l'iter per l'aumento della potenzialità dello stesso depuratore, dagli attuali 46.000 abitanti equivalenti a 69.000 abitanti equivalenti. Anche la copertura delle vasche sarà di competenza e a carico del commissario straordinario a valere sui fondi Cipe. Lo ha detto il sindaco di Mazzara, Salvatore Quinci, nel corso di un sopraluogo agli impianti di depurazione cittadini. Accompagnato dal tecnico comunale responsabile degli impianti di depurazione, geometra Mario Dagati, dall'amministratore dottor Barletta e dai tecnici dell'impresa Soteco, che fino a febbraio 2020 ha in gestione il depuratore centralizzato, il sindaco Quinci ha inoltre constatato che è già stato collaudato l'impianto dei bottini, dando direttiva agli uffici di predisporre gli atti affinché grazie al nuovo impianto anche gli autospurgo possono conferire i reflui pubblici che provengono dalle catoide privati nell'impianto di depurazione dopo la predisposizione di un atto amministrativo che stabilisca modalità e tariffe. Entro fine mese, ha detto il sindaco, contiamo di regolamentare questa tipologia di conferimento da parte dell'autospurgo, con vantaggi per l'ambiente, le casse comunali e risparmi per le stesse imprese soggette al momento ad alti costi, in quanto gli autospurgo sono costretti a conferire i reflui fuori dal territorio comunale. Il sindaco ha inoltre effettuato sopralluoghi nell'impianto di sollevamento del lungomare nel depuratore Cartuboleo Mazzara II, dove sono stati completati gli interventi di ripristino dopo i danni causati dall'alluvione dello scorso mese di novembre. E si è svolta ieri, alla presenza delle autorità civili e militari, presso la caserma Giannettino di Trapani, sede del VI Reggimento Bersaglieri, la cerimonia per il 183esimo anniversario della Costituzione del Corpo dei Bersaglieri. Lo schieramento in armi al comando del colonnello Massimo Di Pietro è stato rassegnato dal comandante del distaccamento della Brigata Hostel, colonnello Luigi Lisciandro. Nel corso della cerimonia si è assistita al saggio ginico con il salto del cerchio di fuoco e ad una dimostrazione del metodo di combattimento militare, nonché l'esibizione di alcune tecniche proposte dalle allieve del corso di autodifesa personale, realizzato con istruttori del VI Reggimento Bersaglieri. È una seduta brevissima di Consiglio Comunale di Marsala, ieri pomeriggio a Palazzo 7 Aprile. Presenti gli assessori Baiate e Passalacqua, all'appello hanno risposto soltanto nove consiglieri. Il Presidente Enzo Sturiano, constatata la mancanza del numero legale, occorrevano infatti 12 consiglieri per la validità della seduta, ha chiuso i lavori, sottolineando che decade così l'intera sessione di lavori per il bilancio, per la cui approvazione di fatto i tempi si allungano. E rimaniamo a Marsala, cambia il sistema di raccolta differenziata, addio al sacchetto rosso, adesso vetro e metallo si gettano insieme. Dopo pochi mesi dall'inizio del nuovo servizio di raccolta rifiuti a Marsala, non si utilizzerà più il sacchetto rosso per l'alluminio. L'amministrazione comunale di Marsala ha infatti deciso di unificare la raccolta di vetro e metalli in un solo mastello. Addio quindi dopo pochi mesi all'uso del sacchetto rosso che era stato dato in dotazione e che aveva fatto storcere il naso ai cittadini. Infatti sono molti i marsalesi che hanno visto il proprio sacchetto volteggiare in aria nelle giornate di vento. Una soluzione criticata fin dall'inizio e che adesso la giunta di Girolamo ha capito essere fallimentare. Vetro e metalli si dovranno conferire insieme a partire dal prossimo lunedì 17 giugno e verranno raccolti ogni 15 giorni. Il Consiglio Comunale di Favignana, convocato in sessione urgente su proposta della conferenza dei capogruppo, ha votato mercoledì all'unanimità un ordine del giorno che impegna l'amministrazione comunale a valutare di ricorrere al TAR per l'annullamento del decreto 235 del 30 maggio 2019 a firma del sottosegretario Manzato che assegna alla tonnara di Favignana soltanto 14,525 tonnellate di tonno. Inoltre, sempre il Consiglio Comunale ha demandato alla conferenza dei capogruppo l'individuazione di una delegazione rappresentativa del Consiglio Comunale per chiedere e seguire nei tavoli ministeriali la problematica, proprio al fine di scongiurare per il prossimo anno ulteriori errori o scelte arbitrali. Alla seduta hanno partecipato le forze politiche locali e l'azienda Castiglione, rappresentata da uno dei suoi amministratori, cui lo stesso Consiglio Comunale e il Presidente Galuppo hanno manifestato piena solidarietà e un doveroso ringraziamento per il grande investimento attuato per riportare in mare Tonnaroti, Reti e Vascelli. E torniamo a Mazzara, incontro ieri al Comune tra l'assessore alle politiche sociali Vito Billardello e il Dottor Pasquale Musso, ricercatore mazzarese, psicologo ed esperto di processi interculturali presso l'Università di Bari Aldomoro. L'incontro è stato utile per gettare le basi di uno studio di ricostruzione su basi scientifiche e comunicativamente efficaci del modello di integrazione di Mazzara. La nostra città, detto il Professor Musso, rappresenta un esempio riuscito di convivenza tra culture diverse e per questo nel tempo è stata già oggetto di diversi studi. Ma tutte le ricerche hanno guardato ad aspetti particolari e da punti di vista di discipline diverse. L'obiettivo della nuova sinergia in cantiere è di guardare al modello di convivenza mazzarese secondo una prospettiva ampia e integrativa, che possa rendere adeguatamente conto del successo della nostra comunità nell'accogliere, integrare e includere soprattutto i concittadini tunisini. La nostra amministrazione, a tal proposito, ha detto l'assessore Billardello e aperta ad ogni progettualità di crescita sociale ed economica. In quest'ottica benvengano sinergie con altri ente istituzioni di carattere scientifico, soprattutto se supportate da finanziamenti comunitari. E' un sospiro di sollievo per gli stabilimenti balneari siciliani. La regione infatti proroga le concessioni sino al 2023. Via libera dal governo Musumeci al disegno di legge che proroga al 2033 le concessioni per gli stabilimenti balneari della Sicilia. Una boccata di ossigeno per i titolari e concessionari rispetto alla direttiva Bolkstein che fissava la scadenza al 31 dicembre 2019. La proroga delle concessioni damaniali al 2033, dichiara l'assessore del territorio e ambiente, Totò Cordaro, è un chiaro segno di attenzione da parte del governo verso un comparto trainante dell'economia siciliana che troppo a lungo ha sofferto di uno stato di incertezza. La previsione di decadenza di tutte le concessioni al 31 dicembre di quest'anno aveva generato un grande stato di sofferenza e una forte contrazione degli investimenti da parte delle imprese turistiche che peraltro si sono trovate penalizzate anche nell'ottenere credito dalle banche. Il disegno di legge in attesa di una completa revisione del sistema delle concessioni damaniali marittime prevede anche nuove disposizioni per la verifica e l'accertamento delle entrate dovute a canoni concessori e l'allineamento dei dati con il sistema di rilevazione contabile tenuto dalla ragioneria della regione siciliana come auspicato dalla procura regionale della Corte dei Conti nonché l'aggiornamento del database del sistema informativo del demanio. Il decreto legislativo verrà inoltrato all'assemblea regionale per l'approvazione. E rimaniamo in tema di stabilimenti balneari. Anche quest'anno l'associazione Abilmente Uniti di Mazzara del Vallo, composta da famiglie con figli disabili, si fa promotrice del progetto Un mare per tutti, dando la possibilità alle persone diversamente abili di poter accedere alle strutture balneari di Mazzara del Vallo. Quasi tutti i lidi della città hanno aderito all'iniziativa, adattandosi alle necessità delle persone con disabilità e favorendo quindi l'accesso al mare. L'associazione Abilmente Uniti consegnerà alle strutture balneari che aderiranno all'iniziativa una sedia job ricevuta mediante sponsor e associazioni locali. I lidi invece si impegneranno a garantire un ombrellone con sedie o sdraio gratis ai diversamente abili che si presenteranno presso i lidi disponibili all'iniziativa. Costituire un'associazione dei panificatori della provincia di Trapani al fine di risollevare il comparto con regole condivise e maggiore qualità per i consumatori. E' questo l'obiettivo di una riunione che si è tenuta presso la sede provinciale di Cifa a Mazzara del Vallo. Alla riunione hanno partecipato il dottor Gaspar Ingargiola, che è il responsabile provinciale di Cifa, nonché della Confederata Sartigianata, su delega del Presidente Patti. Inoltre erano presenti il dottor Salvatore Maddio, responsabile interregionale Sud Italia Cifa, e il dottor Nicolo Castelli, advisor esperto di trade marketing e rappresentanza di alcuni panettieri. Inoltre ha partecipato Francesco Alagna. E' restato proprio Alagna ad illustrare le maggiori problematiche del settore in termini di modalità del lavoro e di redditività. Si è convenuto al termine della riunione che soltanto un approccio sistemico e una maggiore sinergia fra i produttori relativamente a un prezzo medio di partenza e gli orari di apertura e di chiusura settimanali potrebbero garantire una maggiore equità di mercato. E fervono i preparativi per Blue Sealand 2019. Si è svolto un tavolo tecnico alla Regione. Si è svolta a Palermo, presso la Regione Siciliana, una riunione relativa alla ottava edizione di Blue Sealand Expo dei Cluster del Mediterraneo, Africa e Mediorente, promosso dal Distretto della Pesca e Crescita Blue, con il supporto del Centro di Competenza Distrettuale in collaborazione con la Regione Siciliana e il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale. Blue Sealand punta alla promozione della Green Blue, Bio e Circular Economy nelle filiere produttive e contribuisce a stimolare le buone pratiche che favoriscono la rigenerazione delle risorse naturali, l'innovazione dei processi produttivi e la creazione di opportunità per nuove figure professionali. Organizzato dal Dipartimento degli Affari Extra-Regionali della Presidenza della Regione Siciliana, l'incontro a Palermo ha visto la partecipazione di rappresentanti dei vari dipartimenti degli assessorati regionali, di associazioni di categoria, di enti pubblici e privati e imprese. Nel corso dell'incontro, presieduto dal dirigente generale Salvatore Giglione, è stata presentata la prossima edizione di Blue Sealand che si svolgerà a Mazzara del Vallo dal 17 al 20 ottobre 2019. Lo stesso ingegnere Giglione ha sottolineato l'importanza rivestita della manifestazione per la Presidenza della Regione Siciliana, considerata la sua rilevanza relativamente ai temi affrontati nel corso delle sette edizioni precedenti, che hanno visto la Sicilia al centro del Mediterraneo. Pertanto è stato assicurato anche per l'edizione 2019 di Blue Sealand il pieno sostegno della Regione Siciliana. Al tavolo tecnico ha partecipato in rappresentanza del comune di Mazzara del Vallo, l'assessore all'innovazione Vincenzo Giacalone, il quale ha dichiarato «la nostra amministrazione, così come assicurato dal sindaco Salvatore Quinci, contribuirà fattivamente all'organizzazione e al successo della ottava edizione di Blue Sealand. Sosteniamo tutte quelle iniziative che hanno l'obiettivo della valorizzazione del territorio di Mazzara del Vallo e delle sue eccellenze». E si è tenuta ieri mattina, a largo di Mazzara del Vallo, un'esercitazione di soccorso ad aereo incidentato in mare organizzato dalla Guardia Costiera di Mazzara. Le operazioni sono scattate alla ricezione di un allarme simulato proveniente dall'attore di controllo del Trapani Birgi, che riferiva del tentativo di atterraggio e di emergenza di un aereo Piper proveniente da Pantellerie diretta a Trapani, con successiva ammarraggio dello stesso. Scopo dell'esercitazione era quello di testare, di concerto tra la Guardia Costiera, la Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e le associazioni di volontariato Misericordia di Mazzara San Vito, per gli aspetti di rispettiva competenza, il dispositivo di risposta ad un'emergenza che si verifichi in mare e che comporti l'esigenza di predisporre servizi complessi di assistenza a terra. Il grido di allarme dei sindacati per circa 200 milioni di opere incompiute che sono bloccate. Opere incompiute, 200 milioni di euro bloccati fino al 2021, è un'attesa lunga 30 anni. Tre opere pubbliche strategiche per il territorio trapanese e 200 milioni di euro bloccati fino al 2021. A lanciare l'allarme opere incompiute è la filea CGL di Trapani, che definisce la mancata realizzazione di importanti infrastrutture vergognosa, scandalosa e una ingiustizia ai danni dello sviluppo della provincia di Trapani e degli operai edili vittime della crisi che sta attraversando il settore delle costruzioni. Dovevano essere appaltati nel 2019 i lavori per la variante nel tratto Trapani-Mazzara del Vallo, compreso tra lo svincolo di Birgi e il collegamento alla strada statale 115 e i due lotti dal collegamento delle strade statali 113 e 119 di Alcamo, ma il report inviato all'ANAS, alla Commissione Trasporti del Senato, ha rinviato le gare di appalto al 2021. Alla base della proroga ci sarebbe la necessità di incrementare i tempi per il completamento dell'iter autorizzativo, così slitta di altri due anni la realizzazione di infrastrutture che il territorio attende da oltre 30 anni. E' una situazione assurda, dice il segretario della filea CGL di Trapani, Enzo Palmeri, che aggrava ancora di più il quadro delle opere incompiute in provincia di Trapani, dove registriamo un flop infrastrutture. E' paradossale che quando le risorse sono disponibili non si spendono. Ci troviamo, prosegue, dinnanzi a una burocrazia che tra il progetto di fattibilità tecnica ed economica e l'apertura al traffico dell'opera fa trascorrere mediamente 5 anni e una gestione politica della questione infrastrutture che il Governo nazionale e regionale continua ad affrontare in maniera mediocre. Intanto, il 18 giugno, la filea CGL, insieme ai sindacati delle costruzioni della CISL e della UIL, parteciperà a un incontro alla Regione con l'assessore alle infrastrutture per discutere di opere pubbliche e lavori immediatamente cantierabili, ovvero che hanno già ottenuto il finanziamento. Il Consiglio Comunale di Partanna ha approvato ieri a maggioranza il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2018. Dal rendiconto di gestione risulta un avanzo di amministrazione o di fondo di cassa al 31 dicembre dello scorso anno di circa 5 milioni e 700 mila euro. Il risultato di amministrazione è positivo, commenta il Sindaco Nicola Catania, ed è in regola con i parametri di stabilità previsti per legge. Un dato che rassicura sul buono stato di salute dell'ente locale, confermato anche dal fatto che il Comune, grazie all'oculata gestione di questi anni, non ha mai chiesto anticipazioni di cassa. Adesso un servizio da Palermo sulla formazione professionale. Troppi ricorsi, uno di questi davanti al CGA Slit a fine settembre, e la Regione siciliana corre ai ripari, arriva così la sospensione dell'avviso 8 del 2016 della formazione professionale. Come scrive Live Sicilia, i corsi organizzati dagli enti ammessi nella graduatoria sarebbero dovuti partire proprio questa primavera, ma dopo diversi tentativi di rilanciare il settore, l'assessore Roberto Lagalla ha dovuto rallentare un mero fatto tecnico, spiega proprio l'assessore, che serve a tutelare le casse della Regione e i fondi europei, i rischi da cui la Regione siciliana ha scelto di proteggersi con questo congelamento dei corsi, sono in particolare l'ipotesi di danno erariale e il rischio di disimpegno delle risorse comunitarie. Ma al di là di questo fatto tecnico, è chiaro che il congelamento dell'avviso 8 della formazione professionale vuol dire il congelamento dei milioni di euro a esso destinati, nella sostanza un film già visto più volte anche nella precedente legislatura. Gli intrecci e gli inghippi burocratici, i ricorsi e i rallentamenti giudiziari stanno letteralmente massacrando la formazione professionale in Sicilia che di suo è stato settore per anni in cui si sono consumati imbrogli, reati e ruberie. L'ennesimo congelamento dei corsi dopo altri congelamenti ci porta soltanto a una battuta, forse ci vuole un forno a microonde all'assessorato regionale alla formazione. Dopo il servizio di Palermo torniamo a Mazzara, la Confcommercio della città comunica che per il periodo estivo, compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre, i pubblici esercizi di Mazzara non effettueranno la chiusura settimanale di turno. Incontro stamattina al Palazzo di Città tra il sindaco di Mazzara del Val, il dottor Salvatore Quinci, il sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone. I primi cittadini di Mazzara e Petrosino hanno ribadito la volontà di consolidare rapporti di amicizia e collaborazione tra le due comunità e realtà territoriali, in un percorso di condivisione di alcuni progetti a partire dalla riqualificazione e valorizzazione ai fini culturali e turistici della riserva di Capofeto. All'incontro hanno partecipato anche i presidenti dei consigli comunali Vito Gancitano e Davide Laudicina e gli assessori alle attività produttive di Mazzara e Petrosino, Vincenzo Giacalone e Roberto Angileri. E per rimanere in città l'assessore comunale Caterina Agate ha dato direttiva ed è stata avviata in tutto il territorio comunale un'attività costante di spazzamento di strade all'integrazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti. Gli interventi hanno già riguardato via Roma, via Gian Giacomo Adria, via Madonna del Paradiso e lungomare ed alcune zone periferiche. L'attività di spazzamento, si legge nella nota, proseguirà per dare decoro e pulizia alle nostre strade e piazze. Ma è necessario, dice l'assessore Agate, la collaborazione della cittadinanza per tenere pulita la città. L'amministrazione comunale, come annunciato nei giorni scorsi, ha intensificato i controlli ambientali con l'ausilio di uomini e mezzi della Polizia Municipale della videosorveglianza. Adesso vi ricordo l'appuntamento per domani, 15 giugno alle ore 10.30 presso il Mar Hotel con la conferenza stampa di presentazione di Eorafrica Cup 2019, vele senza frontiere, mentre si svolgerà il 16 giugno la benedizione dei cavalli e dei cavalieri. E come ultima notizia vi lascio ad uno stralcio e l'intervista a padre Giuseppe Fullone, fervono i preparativi per i festeggiamenti in onore della Madonna del Paradiso che si svolgeranno in città dal 10 al 21 luglio. Adesso vi lascio con uno stralcio, mentre l'integrale lo potrete ascoltare e vedere al termine della replica del nostro Tg. Carissimi fratelli, sorelle, amici, certissimamente devoti della Madonna del Paradiso. Il mio parlare non era soltanto rivolto a voi e a noi di Mazzara del Vallo, ma alla diocesi di Mazzara del Vallo, perché la Madonna del Paradiso è la patrona non soltanto della città di Mazzara del Vallo, ma di tutta la diocesi di Mazzara del Vallo. Ci stiamo avvicinando alla solennità annuale della Madonna del Paradiso. Il mio parlare è per ogni cosa per aggiornarvi circa i movimenti che facciamo in questa solennità, ma anche per esortarvi con una buona parola a partecipare alle varie esortazioni, alle varie inviti che facciamo. Allora, quest'anno il primo movimento che facciamo è giorno 10 luglio. Perché così tardi? Voi sapete che è stata stabilita come solennità della Madonna del Paradiso la seconda domenica di luglio. C'è un fatto storico tutto particolare, ma non sto qui a ricordarvelo. Grazie a tutti.